Allora, buonasera, siamo qui con Conte, migliore in campo nella partita tra Golmania e Sevilla, finita 2-2. Allora, Conte, un pareggio. Secondo te perché migliore in campo? Ma questo non lo so, dovete decidere loro se l'avete stabilito voi e potete dare la motivazione. Comunque abbiamo visto una difesa molto compatta, un ruolo tuo principale. Questa è il primo gol, difesa un po' che ballava, poi dopo mi siete attestati. Ottima prestazione anche di De Landro, che ha fatto un'esperienza di parata impossibile. Però la giuria dell'SK ha nominato te come migliore in campo in quanto hai fatto alcuni interventi decisivi che potrebbero portare anche a uno svantaggio da parte vostra e condizionare tutti i contro. Cosa si prova ad essere comunque nominato migliore in campo? Abbiamo la soddisfazione, abbiamo visto la prima volta. Un carriera. Senta, quali sono le vostre ambizioni in questo torneo? Speriamo di vincere, dato che è la terza volta che facciamo questo torneo, però ancora non siamo riusciti a... Ci sono squadre che giocano da 10 anni e ancora non vincere. Speriamo di vincere. Ti ringrazio molto per questo minuto dedicato, complimenti. Un saluto da Sergio Conte e... No, anzi, Max. Sergio Conte. Ciao, ciao.